Al Salone del Mobile di Milano 2022 ho avuto l'occasione di apprezzare particolarmente la presentazione della libreria JAD di Moog. JAD nasce da un progetto del designer Alessandro Di Prisco, come tributo all'artista americano Donald JAD, che sperimenta nella sua ricerca i volumi puri, le forme differenti e semplici per raggiungere un'immediata dimensione ottica. JAD è uno degli artisti più significativi del XX secolo. Le sue idee radicali e il suo lavoro continuano e continueranno a influenzare i campi dell'arte, dell'architettura e del design. Di Prisco progetta per Moog un sistema di moduli in metallo che si possono affiancare e sovrapporre, ricco di curve concave e convesse che creano composizioni quasi infinite. Una varietà di vuoti e pieni che permettono una dinamicità e versatilità degli spazi. Forme e volumi essenziali danno vita a un progetto scultorio indistinguibile. JAD è una libreria che mi ha colpito particolarmente perché non solo è estremamente capiente nei vani contenitivi, ma ha una grafica che la rende un oggetto artistico nell'ambiente domestico e non solo. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.